Mi sembra ancora impossibile, ormai avevo praticamente perso le speranze e invece oggi, questa mattina, risolvo per sempre i miei problemi di internet. Se mi seguite da un po' sapete che da quando mi sono trasferito all'interno di questa casa, per quanto bella, per quanto comoda, per tantissime cose, uno dei problemi principali è sempre stato internet. Quindi è arrivato il momento di togliere tutto ciò che c'è dentro questo armadio, che, sì, è più incasinato di quello che dovrebbe, perché ho fatto mille modifiche, eccetera. Se seguite il canale da un po' di tempo sapete tutte le peripezie e eventualmente dopo vi spiego tutto il processo che ho fatto per migliorare la mia situazione di linea internet nel corso degli anni, ma diciamo che questo è stato il risultato finale. In realtà no, vabbè, a parte il casino, diciamo che la mia soluzione attuale era diventata decente, ma ovviamente non è la migliore delle soluzioni e soprattutto per niente pratica. Questa mattina verranno a collegare finalmente questo. Si tratta di un cavo in fibra, perché i ragazzi di dimensione internet sono stati gli unici che sono riusciti a trovarmi una soluzione. Decisamente non adatta a tutti, ma per alcune aziende può essere l'unica soluzione percorribile. È arrivato! Eccolo qua! L'uomo che mi salverà! Quindi questa praticamente è l'ultima giuntura che c'è tra virgolette tra le due fibre. No, c'è anche quella dentro il cassero. Vabbè, quella dentro casa con la borchia, giusto? Praticamente il cavo verde arriva dalla centrale, mentre il cavo grigio va dentro casa mia. Come vedete lì dentro ci sono diversi tubi, ovviamente che possono essere utilizzati poi anche per tante altre linee, perché questo adesso è per me, ma poi in un futuro si creerà un'infrastruttura completa che potrà essere utilizzata da tutti. Questo è il cavo verde che poi appunto verrà aggiuntato con la fine di questo grigio che vi ho fatto vedere anche prima. E le salda insieme una alla volta? Ma non dovete metterle a mano, immagino. A mano, una a una? Ok. Non avevo mai assistito alla procedura di saldatura della fibra ottica e devo dire che è stato molto affascinante. La differenza principale è che quello verde è molto più rigido e protetto, proprio perché deve fare una tratta più lunga, mentre il cavo grigio, sempre con 24 fibre, è molto meno protetto, ma è più flessibile e piccolo. Ovviamente perché deve essere inserito direttamente nelle abitazioni e tante volte capita che lo spazio per passare sia decisamente poco o magari che le curve siano nette, quindi è decisamente meglio avere un cavo più flessibile. La procedura di saldatura è stata veramente affascinante. Hanno dovuto spelare e pulire ogni singolo cavo uno a uno per poi posizionarli all'interno di un macchinario che va a effettuare una saldatura di ogni singolo cavo in fibra. Ovviamente per una linea classica non servirebbe tutto questo sbattimento perché i tecnici lo fanno sotto casa vostra, lo fanno dentro un palazzo, lo fanno prima, diciamo, poi arrivano con la borchietta finale che vi arriva dentro casa. Quindi tutta questa parte genericamente non viene vista. E devo dire che per me è stato molto molto affascinante. Una volta effettuata la saldatura di tutti i cavi necessari, in questo caso l'abbiamo fatto di sei fibre all'interno del tombino e di quattro dentro casa, hanno potuto affissare la borchia dentro il tombino e quella all'interno di casa mia dove poi andrà collegato l'hont. Ok, hanno quasi finito. Adesso devono solo mettere la borchia qui e poi possiamo eliminare completamente questo marasma che vabbè, lasciamo perdere. Ok, abbiamo fatto passare il cavo in fibra dentro qua dove c'era tutto. in modo che mettiamo la borchia dentro, poi tutta questa roba praticamente viene eliminata e rimane solo il router di ASOS, che in realtà adesso è questo, ma poi devo farvi vedere quello nuovo e praticamente basta. L'UPS e tutto il resto poi lo sposto e qui rimane vuoto. Decisamente più pulito e semplice, anche perché adesso, nonostante l'abbia fatto io, è più complicato di quello che sembra. Siamo al giorno successivo perché mancava l'ONT, ma ce l'abbiamo fatta. Questa è la borchia finale che, come potrete vedere, è leggermente diversa dal solito, soprattutto rispetto a quelle domestiche, perché è molto più grande. Infatti questa borchia qui permette di contenere fino a 8, anzi no, 12 fibre, come potete vedere. Qui in questo caso ne sono state collegate 4. Dentro al mio cavo ce ne sono 24 totali, ma noi ne utilizzeremo solo una perché basta una linea. E in questo caso è dedicato, praticamente da qui parte e va direttamente alla centrale. È una linea punto punto. Quindi in questo caso casa mia è diventata come se fosse una piccola centralina e io potrei distribuire, ovviamente con l'hardware adatto, ai vicini, alla zona praticamente. Quello che mancava era questo, ovvero l'ONT. Ciò che ci permette di passare dalla fibra all'Ethernet. Infatti noi adesso toglieremo tutti questi router, switch, eccetera, e collegheremo solo con un cavo Ethernet l'ONT al router principale. Poi ci sarà un upgrade da fare per il router, ma lo vedremo in un altro video. Intanto voglio avere la linea funzionante e finalmente riuscire a godermi una connessione decente. Tralasciando il casino che c'è in questo momento perché avevo tolto, rimesso, eccetera, per fare delle prove perché sapevo che dovevano venire. Prima era tutto fissato un po' più bellino. Avevo tolto le coperture, eccetera. Non vedo l'ora di non avere più tutta sta roba. Tutto sto casino, tutti sti cavi e soprattutto tutti questi dispositivi che alla fine non sono necessari, ma per riuscire a garantirmi una linea un minimo decente, in questo caso lo erano, lo erano diventati. Mamma mia, che sollievo. Tolto tutto quanto, devo ancora rimettere la mascherina, devo sistemare un attimo i cavi. L'ultima cosa da fare è collegare il router con la porta One, questa qua, all'ONT. Poi ripristino il router e facciamo la configurazione. Quindi chiamiamo Francesco di dimensione e facciamolo insieme. Ah, connesso è connesso perché sta andando? Te la ridi già. Madonna, du... Oddio! Piango! 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 Mamma mia! Ce l'abbiamo fatta! Oddio, santissimo! Pingo due secondi su Milano. Eh, vabbè, vorrei ben vedere che pingo due secondi su Milano, sono qua. Due millisecondi, che cazzo! È finita, mi sembra ancora impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Ho finalmente una linea come si deve e ho una signora linea. Adesso in tantissimi sono sicuro che staranno scrivendo nei commenti o hanno già scritto Madonna, tutto questo sbatti, tutto questi scavi, tutti questi probabilmente costi per poi avere una giga simmetrica. Io ho da dieci anni la fibra e adesso addirittura la 10 gigabit e tu hai fatto tutto questo. Purtroppo è stata l'unica soluzione e devo ringraziare davvero tantissimo i ragazzi di Dimensione Internet che sono stati gli unici a farsi questa sbatta per risolvermi una situazione che per me è stata molto complicata nel corso degli ultimi anni. Chi mi segue già sul canale probabilmente saprà che ho avuto tanti problemi di linea. Quando mi sono trasferito l'unica disponibile era una VDSL 7020 che non è male in realtà. Il problema è che la cabina alla quale ero collegato era completamente satura e non si poteva fare niente. Mi è capitato diverse volte di essere completamente senza internet o praticamente inutilizzabile. Mi è capitato di avere tantissimi problemi e quindi ho cercato diverse soluzioni. Prima aggiungendo un 5G, poi aggiungendo un'altra linea VDSL. Ho provato anche Starlink per poi unirle tutte quante con Wania che è stata la soluzione che mi sono portato avanti fino adesso, che è stata la mia salvezza ragazzi, unendo appunto due VDSL e una 5G. Il problema è che per quanto sia ottima come soluzione è comunque costosa, richiede diverse linee, non ha la stessa prestazione in questo caso di una fibra diretta. La situazione l'ha migliorata tantissimo ma non era perfetta. Quando ho avuto la conferma che si poteva fare questo lavoro ho detto facciamolo, non vedo l'ora e anche se è una gigabit simmetrica non posso che essere più felice di così. Cosa significa? Significa che rimarrò per sempre con la gigabit simmetrica? No. Potrei anche in questo momento richiedere praticamente 400 gigabit. Potrei praticamente richiedere linea infinita. Basta pagare e installare l'hardware. Perché il cavo che arriva direttamente dentro casa mia non è un classico cavo come quello che avete attaccato al modem con un cavo di fibra, ma dentro ce ne sono 24 e ognuno di quelli potrebbe portare teoricamente credo 100 gigabit, qualcosa del genere, quindi fate un po' voi i conti. Quella borchia che avete visto dentro il mio armadietto è quella che genericamente appunto viene montata ai lati dei palazzi, all'interno dei palazzi, perché vengono fornite diverse abitazioni, in questo caso 12, ma con il cavo se ne potrebbero mettere due e portare la linea con lo stesso cavo a 24 abitazioni. E diciamo che è una soluzione esagerata, ma la cosa bella è che non appena verrà creata tutta l'infrastruttura e ci sarà la possibilità di collegarsi a non direttamente alla centrale come in questo momento, potrò effettuare l'upgrade senza spendere cifre esagerate, perché le linee dedicate punto a punto costano veramente tanto, a una linea tra virgolette consumer e mettere magari la 10 gigabit, perché effettivamente non mi serve avere tutte le garanzie e tutti i vantaggi che dà una linea punto a punto. A me serve principalmente avere una linea che funzioni decentemente senza tanti problemi. Oggi tra l'altro è stata attivata sempre con dimensione la linea anche a Dimo, che ha ricevuto una 2.5 gigabit in down e un gigabit in up ed è super contento, siamo entrambi super contenti. E altra cosa molto curiosa, mentre documentavo tutti i vari scavi eccetera su Instagram, in tanti mi hanno scritto che alcuni di voi erano effettivamente utenti di dimensione e si stanno trovando benissimo, chi con la 10 gigabit, chi con la 2.5, chi con la gigabit e mi fa davvero piacere sentire questo perché tante volte magari con me hanno avuto un trattamento di favore, quindi il mio giudizio in questo caso potrebbe essere falsato. Ma se me lo dite direttamente voi che vi siete trovati benissimo, non avete mai avuto un problema, mi fa davvero solo che piacere. E a proposito colgo l'occasione per dirvi che nel caso stesse cercando di attivare una nuova linea internet, ovviamente potete andare sul sito di dimensione, controllare la copertura direttamente per voi e con il codice BLIN46 avrete il primo mese gratuito. Che dire, io sono super contento, adesso stavo effettuando dei test con il Wi-Fi 7 ma arriverà un altro video a riguardo e ragazzi è fuori di testa il setup come funziona in questo momento. È pazzesco, davvero non so a quante persone possa servire una cosa del genere ma per chi ne ha necessità è assolutamente la svolta. Quindi ragazzi fatemi sapere voi che cosa ne pensate se avevate mai visto tutto il procedimento di posa, se siete contenti per me lasciate un like, iscrivetevi e spero di riuscire a portarvi sempre più contenuti, sto lavorando a diverse cose per tornare molto più attivo sul canale, vi chiedo nuovamente scusa se la mia stabilità su questo social è sempre stata altalenante e nell'ultimo periodo ancora di più e da Blink è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!